Buongiorno a voi tutti e bentornati al Tg2. Dunque dopo la conferma del governo sull'affidamento ad Aspi della gestione del nuovo ponte di Genova è arrivata ieri sera la decisione della Corte Costituzionale. È legittimo, sostiene la consulta, estromettere Aspi dalla ricostruzione del ponte. Ora l'esecutivo deve decidere sul futuro della concessione e senza una proposta di autostrade siamo pronti alla revoca, dice Conte. Tensioni nella maggioranza. Ci parla di tutto questo Marco Sabene. È un punto a favore del governo la sentenza della consulta che ha dichiarato non illegittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del nuovo ponte di Genova perché la questione autostrade si trascina ormai da troppo tempo e tutto si sposta ora sul futuro della concessione autostradale. La procedura direvo che è stata avviata, dice Giuseppe Conte, quindi o arriva una proposta d'autostrade conveniente per lo Stato oppure procediamo, decideremo in settimana. Oggi pomeriggio i vertici di Aspi saranno al Ministero delle Infrastrutture e si capirà fino a che punto la trattativa sarà possibile. Il Vice Ministro Cancelleri sintetizza una serie di proposte, l'uscita dei Benetton o il loro ridimensionamento, l'abbassamento delle tariffe autostradali oppure la revoca appunto. Procedura già avviata da tempo e che il governo tiene come pistola carica sul tavolo della trattativa. Poi c'è il tema politico con Cancelleri che arriva a dire che in caso di mancata soluzione il rischio di crisi sarebbe inevitabile. Dure le opposizioni sono i Cinque Stelle che da due anni non decidono cosa fare, attacca la Lega che denuncia nel precedente governo il Ministro dei Trasporti era Toninelli e il Presidente del Consiglio era Conte. Giorgia Meloni lunedì prossimo sarà a Genova, le attuali concessioni sono una truffa e l'affondo di Fratelli d'Italia vanno revocate e fatte nuove gare. Forza Italia parla di teatrino ormai imbarazzante del governo. Affidare il ponte di Genova di nuovo ad autostrade uccide i nostri cari per la seconda volta, così la sorella di una delle 43 vittime del clollo del Morandi. Allora vediamo nel seguito di Andrea Morandi. Allora vediamo nel seguito di Andrea Morandi.